Le prime sensazioni sono positive perché ho trovato un bel gruppo, un gruppo affiatato, un gruppo di ragazzi che comunque mi hanno messo subito a disposizione dello spogliatoio e quindi mi stanno facendo ambientare. È un gruppo, ripeto, tutto giovane, quindi questo sicuramente aiuterà ad integrarmi al meglio. Stiamo lavorando bene e per adesso fino ad ora sono soddisfatto. Ecco, c'è un attaccante abbastanza eclettico che puoi giocare sia come punta centrale che come esterno, sia a destra e a sinistra. Lo scorso anno con il tecnicimo Renzaki hai giocato anche esterno su 4-3. Sì, mi piace spaziare lungo tutto il fronte d'attacco. Con Mr. Renzaki sono cinque anni che l'ho avuto come allenatore, ho giocato sia a destra e a sinistra, ma anche a punta centrale o seconda punta. Comunque il mio ruolo è l'attacco, quindi il compito mio è quello di buttarla dentro. Ogni anno ho sempre l'obiettivo comunque di arrivare in doppia cifra e anche quest'anno ci proverò. Ecco, un tuo ex compagno Luca Grigio...